4.000 km di confine fra Russia e Cina, il terzo confine al mondo per lunghezza. Nonostante questa incredibile vicinanza con il paese dell'emergenza coronavirus, sono solo tre i casi di contagio confermati in Russia, di cui due già guariti. Gestione esemplare delle autorità? Mera casualità? Potere anticontagio della vodka, come scherzano i russi sul web? Nonostante i numeri, c'è preoccupazione al Cremlino per le conseguenze del virus, non tanto sanitarie ma soprattutto economiche. I prezzi delle verdure nella Russia orientale, quasi tutte importate dalla Cina, sono schizzati alle stelle, mentre il solo crollo del turismo cinese costerà al paese circa 50 milioni di dollari al mese. Ma spaventare di più sono le conseguenze a medio e lungo termine se il fermo produttivo ed economico del maggior partner commerciale della Russia dovesse continuare a lungo. Causa coronavirus, l'Ocse ha già abbassato le previsioni di crescita del PIR russo all'1,2% per il 2020, meno 0,4 punti percentuali. Poco rispetto ad altri paesi, ma l'economia russa è già in stagnazione a tempo per fattori strutturali come la dipendenza dall'esportazione di risorse energetiche o le mancate riforme, oltre ovviamente al peso delle sanzioni per l'annessione in la Crimea. I maggiori rischi li corre il piano del nuovo governo russo di aumentare la spesa pubblica e quella militare, piano che potrebbe essere compromesso anche dagli effetti della crisi coronavirus sui prezzi globali del petrolio, scesi di quasi il 25% dall'inizio di gennaio. Come riequilibrare gli obiettivi di produzione di idrocarburi alla luce del crollo della domanda sarà il tema caldo del vertice OPEC di oggi e domani a Vienna. L'Arabia Saudita spinge per tagli drastici alla produzione, la Russia invece frena, forte di un budget nazionale che pareggia anche con prezzi del petrolio fino a 40 dollari. Se i prezzi scendessero di più però, Putin non avrebbe altra strada che attingere alle riserve strategiche del fondo sovrano, oltre 120 miliardi di dollari. Ciò che è certo è che potenziare la spesa per il benessere dei cittadini è prioritario per Putin, soprattutto la vigilia del riferendum costituzionale del 22 aprile che potrebbe allungare il suo mandato oltre il 2024. Un benessere, la linea rossa, che ha aumentato notevolmente durante i vent'anni dell'area Putin, nonostante il peso dell'economia russa sul pil mondiale, in verde, sia sempre più debole. Putin sembra essere quindi una vittima del suo proprio successo. I russi hanno sperimentato un certo grado di stabilità economica e ora vogliono di più. L'incertezza economica generata dall'emergenza rischia però di mettere a repentaglio sui piani un effetto collaterale dell'emergenza coronavirus. Continuate a seguirci.